Fillea CGL, Filca Cisle, Feneal, Will raccolgono l'appello del sindaco di Tufara Donato Pozzuto e domani dalle 10.30 si ritroveranno lungo la Fondovalle Tappino per protestare contro le condizioni disastrose in cui versa l'arteria che collega Campobasso al confine pugliese. La strada statale 645 presenta gravi problemi di percorribilità, segnalati più volte ad Anas, Prefetture e Regione, ma finora risposte non ne sono arrivate. Così il sindaco di Tufara ha chiamato alla mobilitazione. I sindacati del comparto edile a loro volta la promuovono estendendola ai lavoratori delle costruzioni nel tentativo dicono di dare risposte concrete a quanti disoccupati cercano anche lavoro. Si possono unire quindi le legittime rivendicazioni dei lavoratori dell'edilizia con le esigenze della comunità che vorrebbe vivere in un territorio ben manutentato e infrastrutturato, osservano i referenti sindacali Silvio Amicucci, Massimiliano Rapone e Roberto D'Aloia. L'obiettivo è evidenziare la mancanza di un'adeguata manutenzione e affermare come alcune scelte o non scelte politiche continuino a favorire l'isolamento dei territori di soccupazione e povertà. Dunque queste le richieste alle istituzioni, che sappiano bene utilizzare le risorse a disposizione per programmare l'infrastrutturazione della Regione e che si dotino con urgenza di un piano straordinario di manutenzione del territorio che purtroppo ha subito il totale abbandono a seguito dei tagli fatti da un venticinquennio alle funzioni pubbliche. In conclusione, per Fillea, Filca e Feneal bisogna reagire al perdurare della crisi che continua ad avere una ricaduta a macchia d'olio su tutto il tessuto sociale, quindi indignarsi e reagire perché non c'è peggiore povertà di quella che non ci permette di guadagnare il pane, che ci priva della dignità del lavoro e nega il futuro ai figli.